Italia in fuorigioco, due spagnoli Torres smorza così il pallone, ancora grosso poi una serie di tocchi di testa molto ravvicinati Ambrosini perde palla ancora Sergio Ramos, ma la riconquista e si può ritornare l'idea è anche giusta la finta di che c'è in porta era abbastanza definata c'era un spazio doveva essere totalmente più preciso per il servito del nostro esterno lo vediamo ha avuto un'età che poi passò a liberare la fondità